Tu sei favorevole al divorzio? Io? No. No, e perché? Perché sono con la presa. Beh, dico, ma perché sei con la presa e non sei contro il divorzio? Non capisco, non vedo il nesso fra le due. Beh, io dico che quant'uno si riunisce con una ragazza, no? Se vanno d'accordo perché dovrebbero divorciare? Ma certo che se vanno d'accordo e non divorziano, ma io dico se non vanno d'accordo. Beh, se non vanno d'accordo si prenderanno i manieri, eccetera, e andranno d'accordo. Però succede alle volte che il marito ammazza la moglie e la moglie ammazza il marito. Ma questo succede sul caso di gelosia, perché noi siamo molti gelossi. Allora non è meglio divorziare piuttosto che ammazzarsi? Ma no, no, no. Allora dove si vede... Meglio ammazzarsi che divorziare. L'amore di un uomo, dove si vede? Della sua intelligenza, della sua capacità a dominare i sentimenti. Eh sì, perché facendo il divorzio, no? Per esempio io ho sposato, mia moglie mi farebbe... Facendo il divorzio io resterei sempre un fornuto. Quindi è meglio... Bene!